Tieni, non so dove ho messo le chiavi, te lo do, te lo do, eccoli qua, 45 euro sono regalati, abito tutto aperto con la cintura, un amore amiche, un amore ad una cifra ridicola di 45 euro, veloci a confermare, ha camicia, sono bellissimi, non ne ho molti, dovete essere veloci, guardate come realizzate, bellissimo, andrebbe indossato, uno, ve lo faccio vedere indossato perché merita, perché è particolare, veste sia le taglie piccole sia le taglie più grandi, è un amore, guardate che bello, guardate che bello, vedete amiche, vedete com'è realizzato, bello eh Roby, più corto davanti, più lungo sul retro, è molto carino, ha 45 euro, lo regolate, anche la manica è bella comoda, guardate che bello, lo volendo lo potete portare anche aperto a modi spolverino, bordeaux e nero, 1 a 45 euro, da 99, quindi tutti scontati, è bordeaux e nero, è bellissimo, ora vabbè, io non sono stata, diciamo, a chiuderlo tutto, ha una bella scollatura camicia, ed è regalato, veloci, guardate, 45 euro, ma non è possibile ragazzi, controlla anche nei miei trucchi, ma non, cioè io sono solo venuta qua, mi hai visto tu, sono entrata anche subito in diretta, non sono nemmeno andata giù, cioè cos'è, sono sparite, amiche qua, questo qua è un manicomio, 45 euro, è un amore, con la manica risvoltata, vedete che potete portare lunga oppure con risvolto, è in bagno, vai a vedere nelle tasche, ma non credo, ha 45 euro, regalate amiche, guardate che meraviglia, la toccate qualcuno, 45 euro, stupende, eleganti, raffinate e soprattutto scontati, sono pezzi veramente pazzeschi, ma guardate, dai amiche, più lungo davanti, più corto sul retro, con la sua cintura, è veramente esagerato, a 45 euro correte, ritiro, poi, per quanto riguarda le richieste che mi state facendo, sui cardigan, non ne ho più tanti, sono questi qui che ho, allora, ne ho due neri, uno marrone e uno blu, sono tutti scontati amiche a 29, allora, uno blu, uno marrone e uno nero, 29 euro regalati, guardate, guardate che meraviglia, sono qui, guardate, 29 euro, uno marrone, uno blu e uno nero, parliamo amiche di cardigan, eccezionale, a 29 euro a cappottino, guardatelo, è un amore, a cappottino, guardate, è splendido, guardate la vestibilità, guardate come cade, è qualcosa di meraviglioso, a 29 euro sono gli ultimi quattro pezzi, due sono neri, uno è blu e uno è marrone, 29 euro, il codice è AJ12253, sono i nostri cardigan classici, guardate che meraviglia, guardate come veste, è aperto, quindi non ha problemi di misure, ha una bellissima scollatura, è regalato a 29 euro, è un amore, stupendo, guardate, ultimi quattro pezzi e ritiro, poi torniamo sulle borse perché ho una promozione su una borsa che volevate vedere, ve la preparo subito, allora, parliamo della borsa Hogan da 65, eccola qui, non è possibile ragazzi, guardaci, ma no, ha controllato in due, 65 euro, modello Hogan in promozione, in pelle, in vera pelle, con la cerniera davanti e con la cerniera interna, doppio, doppio gancio, guardate che amore, ha 65 euro in promozione, 65 euro, è un amore, è un amore, bellissimo, 65 euro, guardate che meraviglia, parliamo di un manico importante, una borsa che costava 99 e è andata in promozione a 65, è una sportiva elegante, regalata, anch'io ho già guardato lì, 65 euro, vera pelle made in Italy, cerniera lampo, guardate che spettacolo, è veramente eccezionale, dovete solo essere veloci a confermare, bellissima, con cerniera davanti, ritiro, sempre per la Hogan, poi, amiche, quelle da 39 che mi chiedete tutte, sono queste qui, ne continuiamo a produrre all'impazzata, allora è rimasta in pitone, testa di moro, poi l'abbiamo in oro, poi l'abbiamo in carta da zucchero e l'abbiamo in crema, eccole qua, è regalata a 39 euro, guardate, 39 euro, parliamo di shopping bag, modello Louis Vuitton, regalate a 39, poi posso avercela in tortora e posso averla in grigio, guardate, aspettate a che ve le sistemo un po' meglio, perché ora qua ci sono le chevron che impazzano, le chevron sono andate molto bene, devo controllare prima che cosa mi è rimasto, parliamo di modello Louis Vuitton regalate, eccole qui, guardate, 39 euro, modello Louis Vuitton, pellame eccezionale, shopping bag, regalate a 39, dovete correre con il porta, la pochettina interna per questa, mentre queste hanno la cerniera, guardate questa, in pitone, con cerniera interna e cerniera che la chiude, 39 euro, sono esagerate, sono stupende, veramente un amore, ma non è possibile, Marco, ma dai, non possono sparire delle chiavi da solo, per me sono infinite, no, ma non ci sono, per me sono finite nel divano.